Dunque, un grande sforzo è stato fatto fin dall'indipendenza, creando il Centro per la Famiglia, iniziando la preparazione al matrimonio, già a 25 anni si è cominciato i primi passi già, non abbiamo aspettato il sinodo per fare questo, i centri per i giovani, ma tocchiamo solo una piccola parte della popolazione, una giovane, avviciniamo solo una piccola parte delle famiglie e il resto bisogna che la Chiesa mostri il suo dinamismo, presenti una fede gioiosa, una fede che può attrarre la gente, una Chiesa che dimostra questa misericordia, di cui non parliamo spesso adesso, e che non è ancora abbastanza aperta, non è ancora abbastanza missionaria. E questo direi personalmente l'accento che aspetto dal Papa Francesco, di dare un impulso, un slancio missionario alla nostra Chiesa. Grazie a tutti.